22, Zamponi e Andrea, Olimpia valdannese. 23, Arcolini e Gabriele, un concettivo finale tra Santino. 24, Leonardo e Davide. 23, Arcolini e Gabriele, un concettivo finale tra Santino. 25, Leonardo e Gabriele, gruppo sportivo Pedale e Pietro Santino. 23, Arcolini e Gabriele, un concettivo finale tra Santino e Gabriele, un concettivo finale tra Santino e Gabriele, un concettivo finale tra Santino e Gabriele. 42, con forti l'avento. 44, Alessio. 45, Arcolini e Gabriele, un concettivo finale tra Santino e Gabriele, un concettivo finale tra Santino e Gabriele. 46, Battagli di Zuccolò, gruppo sportivo Olimpia valdannese. 46, Battagli di Zuccolò, gruppo sportivo, 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 gruppo Cinco e cinque. 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 Cinco e cinque.